Nel primo pomeriggio il mezzo attrezzato dei carabinieri del RIS di Parma ha raggiunto il bosco a Paderno del Grappa dove è stato trovato il corpo di Bleder Dediel, 39enne ucciso il 20 gennaio. Hanno perlustrato la zona, effettuato accertamenti sul terreno. Si cerca ogni minimo indizio per dare un nome di un volto al killer che ha colpito la vittima oltre 20 volte. Si cercano anche le chiavi dell'auto del 39enne che non aveva addosso quando è stato trovato il corpo. La macchina chiusa, forse a portarle via, è stato lo stesso assassino. Ma è tutto da accertare. E poi i rilievi e gli accertamenti sui vestiti dell'uomo. Non solo, ma è stata anche passata a settaccio la Mercedes di Dedia, sequestrata e portata nella caserma dei carabinieri a Castelfranco Veneto. Qui i carabinieri del RIS sono rimasti per l'intera mattinata. Nessuna traccia evidente era stata trovata all'interno dell'auto, ma non viene escluso che l'assassino possa essere arrivato nel bosco assieme alla vittima con la sua auto. All'interno i carabinieri avevano trovato il portafoglio dell'uomo e il cellulare. E diventano fondamentali anche gli accertamenti che si stanno effettuando sul telefono del 39enne. Forse nei messaggi o nelle chiamate potrebbe esserci un indizio che possa chiarire questo omicidio. L'ipotesi più accreditata per ora rimane è quella del delitto passionale. La rabbia con cui il killer ha ucciso il 39enne potrebbe far pensare ad un raptus oppure ad una vendetta premeditata. Ora bisognerà attendere i risultati degli accertamenti del RIS. Gli investigatori stanno battendo tutte le piste senza tralasciare nulla.